Un pescatore di 66 anni di Manfredonia era stato condannato dal Tribunale di Foggia la pena di 4.000 euro di ammenda per aver illecitamente detenuto pescato di taglie inferiori a quella consentita. La Corte di Cassazione però ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha ordinato la trasmissione degli atti al capo del compartimento marittimo di Manfredonia. Contro la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, lamentando innanzitutto la mancata applicazione della cosiddetta tolleranza del 10% prevista dall'articolo 87,3 del Decreto Presidente della Repubblica 1639 del 1968 che escluderebbe la punibilità delle condotte contestate nel caso di immissione sul mercato di pesci di dimensioni inferiori a quelle stabilite laddove non si supere l'indicata soglia, circostanza che dovrebbe essere provata dal pubblico ministero. Lamenta poi ricorrente la violazione degli articoli 62b664 ultimo comma codice penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e riportato nella sentenza. La Corte ha recentemente riconosciuto in materia di disciplina della pesca che sono sanzionate penalmente le condotte di pesca, detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto e commercializzazione di specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente, mentre ove tali condotte abbiano ad oggetto esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima deve ritenersi integrato l'illecito amministrativo.